Situazione in evoluzione a Chieti. L'irruzione degli Ultras nella sala stampa dell'Angelini nel giorno della presentazione del nuovo organigramma societario ha lasciato il segno, soprattutto sul morale del patron Giorgio Pomponi che sta riflettendo se sia il caso in questo clima di restare alla guida della società e investire soldi per una squadra la cui parte calda della tifoseria si è schierata contro. Non ci sarebbero le condizioni ambientali per mettere in piedi una stagione importante. Peraltro nelle ultime ore il consigliere comunale Di Giovanni ha fatto sapere che la accordata locale capeggiata dall'imprenditore Trevisan ha messo sul piatto un'offerta ai legali di Pomponi per rilevare la società. Risposte sono attese nelle prossime 48 ore e la accordata Trevisan potrebbe dunque portare avanti il discorso della Serie D a patto che, ha fatto presente lo stesso Di Giovanni, Pomponi e i suoi uomini si facciano totalmente da parte. Si aprirebbe uno scenario nuovo nel caso. Attualmente la accordata Trevisan sta allestendo una squadra per la promozione dopo aver raccolto con la Chieti FC l'eredità della Torre Alex Cepagatti, mentre la Chieti Calcio di Pomponi aveva già annunciato il nuovo allenatore Nevio Orlandi. Tutto congelato dunque in attesa che, se la trattativa dovesse iniziare, questa decolli e vada in porto. Intanto è fermento tra le altre abruzzesi di Serie D. Il San Nicolò ripartirà per la quarta stagione di fila con Massimo Epifani in panchina. Ha annunciato il supercolpo napolano ed ha praticamente chiuso con l'attaccante pedalino. L'Avezzano ha il nuovo centravanti. Si tratta di quello Orlando Aquino, già inseguito allo scorso anno. Ceduto invece al Livorno, Lorenzo Di Curzio per 10.000 euro. All'Aquila le defezioni in Lega Pro fanno aprire nuovamente degli spiragli per un ripescaggio. In teoria dovrebbe essere improbabile, la dirigenza però ci spera ancora, ma intanto prepara la base per il prossimo campionato con gli innesti di Gagliardini e gli ex chieti Fiore e Pietrantonio e si lavora per l'ex pesca Raganci. Gli alcuni fari sono puntati anche sul Lanciano. Se il sindaco Pupillo dovesse trovare una cordata disposta a ripartire dalla Serie D, il campionato si arricchirebbe di una settima cugina abruzzese e peraltro di grande blasone.